Fanno rumore perché gettano ombre su una delle figure più importanti dell'imprenditoria del Mezzogiorno. Sono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea Mantella su Pippo Callipo, il re del tonno ed ex presidente degli industriali calabresi che dall'inizio del nuovo millennio è stata vittima di numerosi attentati intimidatori. L'ex sanguinario killer e padrino emergente di Vibo Valencia, i cui verbali sono stati dissecretati dai PM antimafia di Catanzaro, spiega ciò che sostenevano i Bonavota e di Santonofrio, suoi alleati, divenuti padroni mafiosi dell'area industriale di Maierato dopo aver eliminato i fratelli Alfredo e Raffaele Cracolici, vertici dell'omonimo clan. Dice Mantella, un tempo, negli anni 90, Callipo non si poteva toccare perché protetto dal boss Luigi Mancuso, uno dei più potenti capimafia calabresi. Poi, con la benedizione del defunto boss di Serra San Bruno da Milano Vallelunga, le cose cambiarono e di Bonavota pretesero il controllo assoluto del loro territorio. Su ciò il narrato del pentito Mantella, riflette per grandi linee quello di un altro gola profonda, Francesco Micchienzi, che il 19 ottobre del 2006, nel contesto delle indagini dei carabinieri di Vibo che portarono all'operazione Uova del Drago, riferiva di presunti rapporti pregressi tra Callipo e Di Mancuso. Una voce interna ai Bonavota, ma mai riscontrata dagli inquirenti. Il narrato dei due pentiti però non del tutto coincide. Mantella, dieci anni dopo Micchienzi, riferisce che i Bonavota avrebbero beneficiato di alcune assunzioni da parte di Callipo, altrimenti non avrebbero smesso con gli attentati. Micchienzi, invece, asseriva che fosse proprio l'ostinazione dell'imprenditore a non piegarsi ai Bonavota l'origine degli attentati. Un'ostinazione tale da indurli ad ipotizzare addirittura il sequestro o una rappresaglia sul figlio dello stesso Pippo Callipo. Tra l'altro, dopo una delle prime intimidazioni subite, fu proprio Callipo a riferire della domanda di assunzione di uno di Bonavota finita sulla sua scrivania. Da Vibo Valencia per la Cinus24.